Grazie per aver organizzato questo momento, questa riflessione all'inizio dell'anno scolastico. Ieri abbiamo inaugurato l'anno scolastico Lombardia, quindi siamo partiti, abbiamo ripreso le attività, è sempre un momento bello, l'inizio è sempre qualcosa di importante, è importante per chi comincia, è importante per chi riprende con più o meno problemi vecchi e nuovi, ma insomma il sistema Lombardo reggerà, reggerà perché siamo abituati a raccogliere le sfide e a rispondere adeguatamente, saluto tutte le autorevoli presenze che riconosco in sala. Questo è un problema però che ancora non ha la risposta adeguata, quello di dar vita a un nuovo rinascimento per l'infanzia, in particolare al considerare i bambini, soprattutto quando sono molto piccoli, i bambini iperattivi, i bambini che mostrano negli atteggiamenti, nei comportamenti delle risposte diverse o che non accettano di essere inquadrati in schemi e in comportamenti omologanti. Purtroppo o per fortuna la scuola di massa che pure ha, che abbiamo fortemente voluto, la scuola per tutti e che quindi noi abbiamo perseguito, ci dà delle risposte di inserimento, una scuola inclusiva certamente di tante diversità e dà delle garanzie ai soggetti, ai giovani, alle giovani generazioni. Ma ancora non è una scuola capace di personalizzare e di riconoscere il talento o le modalità di apprendimento. Qui potremmo discutere di grandi, e qui credo che al tavolo ci sono, studiosi di psicologia, studiosi di pedagogia, studiosi anche di sociologia, perché poi quando questi bambini diventano un po' più grandi, spesso sono disadattati e spesso diventano leader negativi. Poi abbiamo il fenomeno del bullismo, poi abbiamo quei polpini, c'è un crescendo continuo di cui chiaramente potremmo parlare per molto tempo. Allora, ecco, la mia testimonianza è questa. D'assessore all'istruzione di Regione Lombardia, noi non abbiamo responsabilità dirette sull'infanzia, perché l'infanzia è dentro il sistema degli ordinamenti statali, quindi la scuola, noi insomma non abbiamo scuole dell'infanzia regionali, noi sosteniamo col buono scuola le scuole paritarie anche dell'infanzia, ma le scuole dell'infanzia sono prevalentemente statali. Però possiamo fare, e questo io mi auguro di poter incontrare chi ha voluto, tra due risponenti del movimento culturale, pensare oltre, per capire come possiamo sensibilizzare i docenti, per esempio, quindi fare un'azione di promozione attraverso i docenti, le famiglie, perché a volte le famiglie e i docenti, senza volerlo, pensando di fare il bene del bambino, finiscono, vi dico nei casi più estremi, a segnalare questi bambini come bambini con indica. Cioè, io ho fatto il caso estremo, perché però si è verificato, si è verificato. Allora, questo è veramente qualcosa che non può succedere, non può e non deve succedere. Allora, come personalizzare i percorsi, come fare di tutto, perché anche questi comportamenti, questi talenti, questo iperattivismo che ci può essere, queste intelligenze straordinarie, possono essere non solo presenti nella scuola, ma quindi dare un valore aggiunto positivo, ecco, insomma, e poi costruire con loro la crescita migliore, la formazione migliore, questo è tutto da me. Quindi io, mentre chiedo scusa, ma non volevo far mancare, ecco, il mio appoggio, il mio contributo personale, vi aspetto, vi do già appuntamento alla mia regione e cerchiamo di capire con la dottoressa Campanelli, che è la direttrice dell'Ufficio Scolastico Regionale e con il gruppo di esperti che fanno parte del nostro movimento, come possiamo ripartire per garantire, partiamo noi dalla Lombardia, per garantire ai bambini di Lombardia che hanno queste caratteristiche, una crescita serena e utilizzare al massimo queste loro capacità. Vi ringrazio e vi chiedo scusa a tutti. Grazie.